Airpods e smartphone Android, ha senso utilizzarle insieme ma soprattutto è possibile? Quali funzionalità si perdono? Nel video di oggi rispondo a tutte queste domande, vediamo come utilizzare le Airpods normali o Pro con uno smartphone Android, vediamo soprattutto le applicazioni di terze parti che ci aiutano ad utilizzarle al meglio e a ridurre il numero delle funzionalità che andiamo a perdere nel passaggio da iPhone ad Android. Utilizzo abitualmente un iPhone con le mie cuffie Airpods Pro di seconda generazione di cui vi ho parlato qui sul canale qualche settimana fa, però per lavoro e per passione utilizzo molto spesso degli smartphone Android e ogni volta devo andare ad utilizzare altre cuffie per fare le chiamate, ascoltare musica e film. Ho quindi voluto indagare un po' e ho voluto approfondire come utilizzare al meglio le Airpods su uno smartphone Android. C'è da dire che siamo in tanti ad esserci fatti questa domanda e ho voluto fare un video riassuntivo breve e conciso che ci spiega come collegare le Airpods ad uno smartphone Android e quali sono le applicazioni di terze parti che ci permettono di aumentarne le funzionalità e di sentire meno il gap rispetto a quando le utilizziamo con il nostro iPhone. Iniziamo subito! Il primo passo è naturalmente quello di andare ad accoppiare le nostre Airpods con il nostro smartphone Android. Per farlo dobbiamo tenere premuto per qualche istante il piccolo pulsante che troviamo sul retro del case. Prima di farlo però piccola nota molto molto importante altrimenti la procedura salta bisogna farlo con lo sportello aperto e con le cuffie inserite negli slot. Clicchiamo per qualche istante il pulsante fino a quando vediamo diventare bianca la luce frontale. Eccola lì, l'abbiamo vista lampeggiare per un istante. A questo punto apriamo le impostazioni del nostro smartphone, scorriamo fino a dispositivi connessi, qui la procedura potrebbe cambiare leggermente da dispositivo a dispositivo. A questo punto siamo pronti ad accoppiare il nostro dispositivo. Clicco nuovamente. Eccoli qui, Airpods Pro di Vittorio. Ci clicco semplicemente sopra ed in un attimo andiamo ad effettuare il collegamento. Davvero semplice e veloce. Molto bene, come avete sentito anche dal piccolo suono, le Airpods sono connesse ed attive. A questo punto siamo già pronti ad utilizzare le Airpods in tutte quelle che sono le funzionalità di base. Grazie ai tap sullo stelo o sul pulsante possiamo andare a gestire quasi tutte le funzionalità. Possiamo gestire il play-pause, possiamo rispondere alle chiamate, ma non possiamo ad esempio regolare il volume e non possiamo neanche richiamare l'assistente vocale. Se avete le Airpods Pro potete tranquillamente utilizzare la riduzione attiva del rumore e la modalità della trasparenza semplicemente tenendo premuto sugli steli come fareste utilizzando il vostro iPhone. Andiamo quindi a capire come andare ad utilizzare tutte le funzionalità avanzate delle Airpods e come vedere lo stato della batteria. Per farlo ci sono tantissime differenti applicazioni sul Play Store. Ve ne cito alcune, sono Capod, AirDroid, MaterialPods e AirBattery. Con queste applicazioni abbiamo la possibilità principalmente di avere un'animazione della batteria simile a questa che vediamo su iPhone quando apriamo il case. Questa qui. Possiamo andare a replicarla sugli smartphone Android. Oltre a questo però di fatto possiamo fare poco altro. Per avere un'integrazione più completa dobbiamo andare sul Play Store e scaricare l'app che si chiama Assistant Trigger. È un'applicazione gratuita che però ha alcune funzionalità esclusivamente legate alla versione Pro che però ragazzi costa solamente 2,19€ e che vi consiglio sicuramente di acquistare per poter sbloccare tutte le funzioni. Il primo passaggio da fare è quello di andare ad impostare il modello di cuffie che stiamo andando ad utilizzare. Dobbiamo semplicemente cliccare su modello auricolari qui in alto e ovviamente selezionare il modello che ci interessa. Nel mio caso Airpods Pro 2. Ok come vediamo quindi una volta selezionato il modello di auricolari abbiamo la possibilità di attivare davvero poche funzionalità però ce n'è una molto interessante per cui vi consiglio di installare questa applicazione. È quella di attivare l'assistente vocale. In questo modo andando a concedere tutti i permessi abbiamo la possibilità di utilizzare Google Assistant con le nostre Airpods Pro su smartphone Android. Davvero pazzisco. In questo modo possiamo utilizzare Google Assistant semplicemente con il doppio tap sui nostri auricolari. Ma andiamo a sbloccare la versione Pro acquistandola e vediamo quali sono le funzionalità in più che offre. Ok eccoci qui con la versione Pro. Adesso abbiamo la possibilità di aumentare le personalizzazioni della nostra applicazione e di come utilizziamo le nostre Airpods su Android. Abbiamo la possibilità di attivare modalità differenti per l'attivazione di Google Assistant, di andare ad impostare o meno il livello della batteria nella barra di notifica, di mostrare l'icona di stato della batteria percentuale qui in alto e insomma molto molto altro. Abbiamo poi il time out della batteria nella custodia e insomma abbiamo sicuramente molte molte funzionalità in più che riguardano lo stato della batteria. Poi abbiamo delle ulteriori funzionalità che possiamo sbloccare che non ci interessano. Abbiamo la possibilità di selezionare il tema, di mostrare gli Airpods come neri, di mantenere attive o meno le notifiche e molto altro. Insomma l'applicazione è davvero ben fatta e ci permette di avere una funzionalità praticamente paragonabile a quella delle Airpods classiche sul nostro smartphone Android. Eccoci ragazzi, insomma abbiamo visto che è possibile utilizzare le Airpods con uno smartphone Android senza particolari problemi. Ovviamente andiamo a rinunciare a tutte quelle funzionalità più avanzate come lo special audio, il rilevamento della posizione della testa, il controllo della riduzione attiva del rumore della modalità trasparenza nei modelli Pro direttamente dello schermo dello smartphone. Però nel complesso, se abbiamo già le Airpods e stiamo pensando di passare da iPhone ad Android, se ce le hanno regalate o se semplicemente vogliamo acquistarle perché ci piacciono, abbiamo capito che le possiamo utilizzare. Spero che il video vi sia piaciuto, se è così non dimenticate un bel mi piace e l'iscrizione qui sotto al nostro canale. Vi garantisco che per voi sono due piccoli click ma per noi sono un enorme ringraziamento. Vi lascio qui sotto in descrizione il link alle applicazioni che ho citato nel video e la guida testuale completa con tutti i passaggi tecnici in più che potrebbero aiutarvi a risolvere qualche eventuale dubbio. Da Vittorio Tiso per Outofbeat è tutto, grazie e alla prossima!